impazzito e perchè fa cosi? boh poi anche impazzisce qualche qua veri ah impazzisce ora staccare i pad magari l'ho compito col pad stasera l'ho staccato ah vado a comprare l'acqua fatta eh ma chiesto mamma a dopo a dopo quei quale sono i 5 e mezzo 5 e 20 ah dopo grazie per la compagnia 5 e 20 5 e 50 ok so che si è bloccato tutto adesso posso partire eh non va sto gioco cavolo come l'altra volta ah do picchiare ah do picchiamo in giro no 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 il mouse non fa niente no no va bene cos'è cos'è sta roba qua che viene fuori ah e non mettere la linea sopra come faccio a metterla ah così no 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 No, questo ho capito No, no Non faccio andare fuori Non ho capito Vedi, c'è legni per fare Ah, forse c'è legni Come fa che c'è Un paio a fare così C'è una cosa in inglese A quale c'è l'italiano? No E' un po' si fa no ne è complicato il suo gioco no move ah ciao ciao felica a dopo io non ho capito cosa devo fare vabbè sto gioco c'è scritto in inglese allora put prendere te te legni te tonchi e mettere lì eh cosa ho fatto non li mettere la prima ho visto che ho messo qua togli questo voglio mettere la cassa forse lo metto la cassa no no se non metterla qua ma questo è per tagliare è questa è questa poi si capito è quella che va qua è quella che va qua è quella che va qua qua dovrebbe tagliarla non va è quella che va non ma non 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 a o 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